Nel centro di Capannori presto nascerà una residenza artistica. Il nuovo polo culturale avrà sede nell'immobile situato in via romana di lato alla chiesa di Capannori che una volta ospitava il consorzio agrario e che oggi è sede nel magazzino delle misericordie toscane di proprietà della misericordia di Capannori. Il progetto ha ricevuto un finanziamento di 800 mila euro dalla regione toscana. I lavori di ristrutturazione dell'immobile partiranno nei primi mesi del 2024. Questo immobile nel tempo era stato pensato anche da Maria Pia Bertolucci come un luogo sociale e culturale. Da parte nostra sarà dedicato ad iniziative culturali, a una residenza artistica, quindi a teatro, teatro innovativo, iniziative culturali innovative, giovani e quindi rivolto molto alle giovani generazioni ma poi a tutta la cittadinanza e sarà dedicato proprio a Maria Pia Bertolucci. Grazie al ricavato della vendita la misericordia realizzerà, seppur in maniera più contenuta, una residenza per anziani, ambulatori medici, un centro di aggregazione e la mensa dei poveri. Un progetto sognato da Maria Pia Bertolucci e che prenderà vita nella corte attorno alla sede della misericordia di Capannori.